Si parte da Tokyo perché a Tokyo comunque è un po' di, non rammarico, però insomma quarto posto è sempre quarto posto, poi all'Olimpiade è ancora peggio. Quindi io di sicuro volevo rifarmi a Parigi, cioè l'obiettivo principale è Parigi, quindi sia un obiettivo di questa estate ma è più una tappa di passaggio, perché come ho detto l'obiettivo è Parigi e penso sia la più importante di tutti, quindi si punta a quello. Ovviamente vedersi campione del mondo con il record del mondo fa un certo effetto e mi dà molta sicurezza per il futuro.